Buongiorno a tutti, oggi è il giovedì 16 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, il tedesco e l'italiano, ovvero su DAX e Fuzzimib. Allora, ieri ci eravamo lasciati con uno short lasciato andare in overnight per cui già in questo momento siamo in buon guadagno, anzi in realtà lo eravamo già ieri anche con la chiusura, piccolo guadagno ma comunque già guadagno. In questo momento se si aprisse, come al solito bisogna vedere se ci sono conferme, se arriveranno prima HFT o altro, ci ritroveremmo proiettati in area 12.862 circa, ovvero qui, ovvero sotto questo minimo a 12.879 e avremmo già un quinto T-3 vincolato a ribasso e propenso a una chiusura di T-1, come dicevamo appunto ieri. Bisogna solo fare attenzione al fatto che la scansione temporale sui cicli non è semplicissima perché fino a qua abbiamo avuto 59 barre. Quindi, da qui a qui, benissimo, potremmo avere una cosa di questo tipo, oppure potremmo aver chiuso qui, è bruttino, e da qui può essere partito un quarto T-3, un quarto ciclo giornaliero che può essere arrivato a 30 barre e tante altre possibilità. Se prendiamo quella indicata, qui invece abbiamo avuto una chiusura a 37 barre, una bella chiusura fatta bene, successivamente appunto partenza di quinto T-3 e se effettivamente la partenza è stata qua, noi siamo analisti, dobbiamo andare ad analizzare proprio il mercato e se andassimo già in violazione di questo minimo dopo la formazione di un T-5 lateral rialzista sapremo di poter continuare ad andare short per 22-6, 16 barre, ovvero tanto, 4, 8, 12, 16 sono 4 ore di ribasso per cui potremmo avere anche dei target ambiziosi, innanzitutto questo livello, ma poi tranquillamente potremo andare verso questa linea gialla. Il discorso è che dato che la centratura è non facile in questi giorni, non sottovalutiamo anche le altre possibilità, come detto. Facciamo anche un controllo di inverso, che serve proprio a fare quello. Da qui a qui abbiamo avuto il sesto T-3 inverso, da questo massimo eventualmente arriviamo fino a qua, 51 barre non possiamo, arriviamo fino a qua, 35 sarebbe una possibilità, facendo così saremmo comunque arrivati a 30, quindi avremmo comunque potenzialmente qualche cosa iniziato qui perché poi la spinta è stata valida. Quindi se anche l'ottavo T-3 inverso lo facessimo partire da questo massimo che non è particolarmente significativo, preferisco farlo partire da qua, avremmo comunque una situazione di favore a livello di spinta short eventuale. Se lo facessimo partire da dove lo faccio partire, esattamente 44 barre, ovvero esattamente la durata massima possibile. Per cui ci siamo. Il programma della giornata sostanzialmente è Abbiamo avuto in precedenza una chiusura di T-1? No, non abbiamo avuto un quarto T-3 ribassista, non abbiamo avuto un terzo T-3 ribassista, quindi anche un tre tempi è difficile da portarsi a casa, quindi potenzialità di discesa. E se già andassimo in violazione di questo minimo appunto, e qui fosse partito il quinto T-3, avremmo una grande chance di valida discesa per oggi. Ma attenzione, che domani ci sono le scadenze per cui, ecco, bisogna essere ancora più guarding del solito. Passiamo al Fuzzi Mib. Per quanto riguarda il Fuzzi Mib, abbiamo che l'apertura è a meno 155 punti in questo momento, se guardiamo il future. Quindi saremo attorno ai 143. Saremo in quest'area qua. Però il discorso è differente. In questo caso abbiamo che, essendo partito da qua al quarto T-3, la centotura è molto più semplice, ed essendo arrivati a 26 barre, abbiamo spazio per una discesa soltanto per, tra virgolette, soltanto per 18 barre. Quindi 4, 8, 12, 16, più di 4 ore comunque in generale. Quindi ci torna a livello di durate massime quello che può succedere su DAX. E quindi siamo abbastanza allineati, sostanzialmente. Qui, come detto, è più semplice la centratura. Controllo sull'inverso. Siamo arrivati a 30 barre. Apriamo già sotto questo minimo. Stiamo andando, anche in questo caso, in chiusura di un T-1. Per cui un target ottimale, interessante, potrebbe essere magari i 20.082, ma anche in questo caso sarà l'algoritmo, dopo le 9.01, a dirci effettivamente che cosa si può fare. Cioè, quali sono poi i target ottimali, anche perché sbaglia di pochi tic, solitamente. Vediamo l'ultimissima parte, ovvero le candele giornaliere sul FuzziNib. In questo caso, partiamo dai controlli. Abbiamo un terzo T-inverso, che può aver lanciato anche altro, che in questo momento è arrivato già a 8 barre, durata media di un T settimanale. Per cui può tranquillamente aver chiuso sul massimo di ieri e spingere per far partire perlomeno un altro T-inverso, che porterebbe a 4 tempi il nostro T più 2, il nostro ciclo mensile. Nello stesso tempo, per quanto riguarda il nostro T, a cui ho dato un colore ben preciso, come vedete, per l'ipotesi principale, è arrivato già a 4 giorni, quindi ci si aspetta una chiusura di metà settimanale, ovvero di T-1, tutto confermato. Direi che questo è quanto per oggi, ma fate comunque estrema attenzione, perché domani ci sono le scadenze, quindi più prudenza del solito, ma dovrebbe aspettarci una bella giornata di, almeno per l'inizio della mattinata di discesa, e poi vedremo che partenza avrà, perché abbiamo fatto il conto anche a livello di tempo, non soltanto di livello di prezzi. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like, e sarà sicuramente una splendida giornata, ci si sveglia già con dei soldi in tasca, per cui, ottimo! Buona giornata ancora a tutti!